Il Trestina miete un'altra vittima illustra allo stadio Casini dove dopo il Poggi Bonzi cade anche il Folloni Cagavorrano. 2-1 il risultato finale con il doppio vantaggio locale firmato da Belli e della Spoletina e il gol toscano di Ampollini. Per i bianconeri di Marmorini si tratta della seconda vittoria consecutiva mentre per la formazione di Bonura è il secondo K-O stagionale. Nella giornata del ritorno al Casini da avversari degli ex di turno Kribek e Bonura è il Trestina a costruire la prima chance con questo destro di Bazzoffia respinto da Ombra. Dall'altra parte protagonista proprio Kribek assist del 10 per Barlettani che di testa alza troppo la mira con la palla che finisce alta sopra la traversa. Lo stesso Kribek prova a far male ai suoi ex compagni con una delle sue specialità e le calce di punizione ma il suo sinistro a giro non inquadra il bersaglio. Al minuto 32 splendida azione palla a terra del Trestina con Gramaccia che innesca la corsa di Bologna. Assiste perfetto per Brevi che però da pochi passi centra in pieno la traversa. Sul proseguio dell'azione Lepri atterra così in area di rigore Bazzoffia. Non ha dubbi il signor Andrea Giordani che concede il penalty in favore dei locali. Dagli 11 metri va Belli che spiazza Ombra e mette dentro il gol dell'1-0. Quattro minuti più tardi arriva anche il raddoppio. Calcio d'angolo dalla sinistra di Belli, spizzata aerea di Bazzoffia e tap-in vincente di Della Spoletina che spedisce in fondo al sacco il pallone che vale il 2-0. Sul finire di primo tempo però il Gavorrano rientra in partita. Al minuto 46 corner dalla destra di Kribek. Tosai calcola male la traiettoria della palla e Ampollini non perdona. 2-1 e partita riaperta. Con questo risultato le due squadre rientrano negli spogliatoi al termine del primo tempo. La ripresa è sicuramente meno emozionante dei primi 45 minuti con la prima occasione degna di nota che arriva al minuto 61 con questo tentativo di Murlandi disinnescato da Ombra. Il Gavorrano fa possesso palla ma non riesce a rendersi pericoloso e allora il Trestina ci prova ancora su calcio d'angolo con la deviazione di Grea che finisce sul fondo al 67esimo. La formazione di Bonura costruisce due palle e gol soltanto nel finale. La prima al minuto 92 quando sul cross di Discepola arriva la conclusione di Ampollini parata da Tosai. Il numero uno del Trestina è protagonista anche due minuti più tardi quando respinge così il colpo di testa di Cerrato. E allora dopo sei minuti di recupero finisce così allo Stadio Casini. Trestina 2-1 Gavorrano.